Rosso di sera, bel tempo si spera. Rosso di mattina, la pioggia si avvicina. Hai visto il meteo? Sì, il cielo dice tutto. Già, sarà una tempesta bella grossa. Decidiamo una strategia. Cambierò rotta. Dovresti usare l'ancora galleggiante. Attraversala. Attraverso la tempesta? Beh, si muove velocemente. Non c'è modo di sfuggirle. Ma significa anche che passerà in fretta. Grazie a Dio. No, ma un attimo si era deciso di fare tutto in sicurezza. Le tempeste qui non sono comuni. È difficile giudicare.